ogni dubbio è lecito anche in questo caso buon pomeriggio mercoledì 9 agosto 17 13 guardando sul paragone sono infortunato quindi sono sono in stanza sono in stanza mentre i miei bimbi sono al mare con la con la mia dolce metà io sono in stanza per un piede slogato sfortuna la sfortuna del principiante che cammina con la bimba in spalla e non è ancora non è più il fisico di una volta e detto questo proprio perché per questo motivo sono qua che sto guardando le notizie no alle ore 17 14 per la precisione del pomeriggio quando dovrei essere sotto il sole ciao carlo clemente buon pomeriggio attendo che siate collegati in anche se presumo che non sarete tantissimi dato l'orario perché anche in questo caso ogni dubbio è più che lecito in questo caso non parliamo ho detto in questo caso 7 8 volte no siamo un po la gilene che ha ripetuto 50 volte la stessa parola però anche in questo caso il dubbio è più che lecito perché parliamo di un altro cantante no e gigi d'aleccio dopo aver parlato di piero pelù parlato dei vari tour sospesi e questa volta un'altra sospensione tra virgolette concerto sospeso per cosa che è successo si pare di malori improvvisi tra il pubblico per il caldo dicono per il caldo andiamo a capire di più attendo voi buon pomeriggio ciao carla simonetta vi saluto una una nicodemo maddalena ornella da piacenza tiziana licia michela e maria dalla spezia angela elisabetta gianola abbiamo nicodemo mitico nicodemo luciano come non va l'audio no ci va l'audio luciano alza volume isabella luana filippo fontana ciao ragazzi serve qualcosa contro i malori ti do ragione ciao roberto vecchies maddalena olivero potranno fare un concerto insieme esatto everi everi meri meri ciao meri ciao roberto ciao francesco stefania gialluca michela luciano franca stefania quanti vai mi piace mi piace mi piacete perché siete collegati nonostante l'orario pessimo grazie alla da firenze sono vicino a te più o meno vicino più o meno vicino e l'audio robbi l'audio luciano continua a dire ma sentite mi sentite datemi una conferma via messaggio perché luciano mi preoccupa mi sentite o non mi sentite questa è la prima domanda dopodiché andremo al dubbio andremo al dubbio alla dubbio della giornata ogni giorno un dubbio no siete pronti aspetto vostro commentino mi sentite non mi sentite audio perfetto ok grazie ragazzi andiamo e ragazze andiamo concerto sospeso malore improvviso tra il pubblico gigi d'alessio costretto lo stop cos'è successo questo è il titolo dell'amico di tommaso croco del nostro paragone punto it l'unico sito di informazione che ha il coraggio di dire solo la verità tutta la verità nient'altro che la verità alla faccia di chi non ci crede malori improvvisi tra il pubblico al punto da costringere pensate gigi d'alessio a concludere il concerto in anticipo rinunciando ai consueti bis che accompagnano la parte finale delle sue performance dal vivo dove tutta la gente urla bis bis gg gg fai bis no non hanno fatto perché perché hanno dovuto stoppare prima il concerto quindi perde la parte finale della sua performance dal vivo tutto è successo durante l'esibizione del cantante a castelli sangro comune italiano in provincia dell'aquila località dove tra l'altro negli stessi giorni era in ritiro la squadra di calcio del napoli oltre 20.000 persone si sono radunate per assistere allo spettacolo di gigi del gigi nazionale compresi molti tifosi del team partenopeo arrivati sul posto per seguire i propri beniamini di colpo però ecco che ci sono verificati i primi imprevisti ta 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 adesso condivisione vi racconterò gli imprevisti condivisione chi non condivide adesso è un complice faccio un po faccio un po come il mare giordano ok siete pronti siete pronti come riportato da fanpage quindi attenzione i faccecchi non possono smentire fanpage che è uno dei loro attenzione il concerto è iniziato senza intoppi fino a quando però non sono arrivati sul palco i segnali dei malori tra il pubblico c'è un malore qua c'è un malore qua c'è un malore malore praticamente così tra il pubblico almeno nove gli interventi nove non parliamo di un intervento che è sempre capitato due tre sono sempre capitati no nove interventi necessari per soccorrere gli spettatori colpiti da cali di pressione lipotimia e attacchi di panico in un caso sarebbe anche stato riscontrato un trauma cranico è attenzione perché è tutto vero di fronte a questa situazione il gigi nazionale gigi d'alessio ha immediatamente sospeso lo spettacolo rimanendo sul palco per seguire i soccorsi del 118 fatto un po da ciccerone no e lo stop è durato una ventina di minuti durante i quali il cantante si è voluto sincerare delle condizioni di salute giustamente e giustamente delle persone colpite da malori improvvisi quindi non solo gli scout ma anche i chiamiamoli chiamiamoli i fan i fan di gigi d'alessio attenzione questo però fa capire che o siamo diventati tutti fragilini tutte fragiline dopo quello che sapete ogni dubbio è lecito chi dice che ogni dubbio non è lecito è un gran bugiardo perché non si può dire che ti blocchi spesso è lo so ragazzi è normale si interrompe si interrompe così interrotto quindi amici è normale che si blocchi spesso perché dico la verità dico la verità esprimo dei dubbi più che leciti amici e amiche siamo oltre 500 collegati considerando che è mercoledì 9 agosto sono le 17 19 evidentemente gigi gigino gigi d'alessio non gigino di maio che fa l'europlanino 12 mila euro a mese in no no parliamo di gigi d'alessio interessa come come artista e detto questo c'è molta curiosità nel capire il perché di questi malori quindi quindi abbiamo il concerto sospeso in realtà una sospensione di 20 minuti per quindi siamo precisi noi abbiamo letto fan page detto questo ogni dubbio è sempre lecito condividete commentate ci sentiamo questa sera io sono qua con un piede che mi fa un male sto andando a bruffe sto andando a bruffe amici vabbè detto questo vi voglio bene io vorrei la maglietta mi dicono se ragazzi da settembre ragazze la maglietta online in tutta l'italia in tutto il mondo si può acquistare maglietta ogni dubbio è lecito la maglietta che quando girerete ve lo assicuro con questa maglietta la gente vi guarderà come dire questo tiene ragione tiene ragione richiamando un po ci sd'alessio questi hanno ragione hanno il dubbio che è lecito amici vi voglio bene come dice però franca gentili succedono molte cose strane carlo clemente è un pochino più diretto è un pochino più diretto ma noi dobbiamo semplicemente continuare a credere ai nostri dubbi come dice angela come dice angela falcone vi voglio bene buona giornata a tutti prendete il sole chi può riposatevi chi può lavorate chi può lavorare fate quello che volete io vi voglio bene a prescindere da quello che fate da quello che pensate pensate noi siamo quelli che benediciamo quelli che hanno dei problemi stanno male mentre loro ci odiavano ci odiavano ci discriminavano facevano di tutto di tutto facevano di tutto per volerci male noi invece li benediciamo e speriamo che stiano meglio perché purtroppo e ogni dubbio è lecito in tanti non mi sembrano molto in forma ciao ciao salutemi la dolce metà e la tua principesse certo liccia ti voglio bene lì ciao ciao lì c'è marzocco ciao a tutti ciao a tutte buon pomeriggio a più tardi a più tardi che arriverò con le notizie del paragone abbiamo de un'immensità di notizie tipo il laser che stanno studiando in america per fare una guerra iper moderna con dei laser distruttivi una cosa terribile ciao a tutti